Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, disse Gesù a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore Oggi è la festa della Santissima Trinità, un'espressione che non è biblica. Trinità, diciamo, l'abbiamo inventata noi, noi tradizione cristiana, noi teologi, diciamo, per indicare le tre persone divine. Ma le tre persone divine sono profondamente radicate nella scrittura, ecco, perché la rivelazione che ci ha portato Gesù ci ha mostrato, come dice Sant'Agostino, che Dio è unico ma non è solo. Dio è relazione. Nel Vangelo che ascoltiamo oggi, che conclude, diciamo così, l'incontro con Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, c'è questa specie di corale, questa specie di grande riflessione comunitaria. La comunità di Giovanni contempla l'opera divina e dice, Dio ha tanto amato il mondo, proprio una professione di fede, da dare il Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non vada perduto, non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo, questa è la rivelazione di Gesù. E in questo amore per il mondo, per l'umanità, per la sua creazione, Gesù ci ha rivelato che proprio è l'amore, la sostanza, diremmo così, di Dio. Tanto è vero che nella prima lettera sempre Giovanni dirà Dio è amore. Ma ecco, l'amore che cos'è? L'amore è proprio relazione, l'amore è dono di sé e anche, l'amore è anche essere amati e tutto questo in Dio c'è. In Dio c'è il dono totale, il Padre che dona tutto, che si dona tutto al Figlio, il Figlio che tutto riceve dal Padre e lo Spirito che è l'amore dei due. Sempre per usare una formula sintetica di Agostino, possiamo dire che in Dio c'è l'amante, l'amato e l'amore. Non è un gioco di parole, è la bellezza di una contemplazione che vede una famiglia, la famiglia di Dio, la famiglia che è Dio, le relazioni fra le persone. E in questo gioco d'amore, in questa, possiamo definirla come i poeti, in questa danza, in questo abbraccio fra le tre persone divine, Dio, attraverso Gesù, il Padre, ha voluto far entrare anche noi, accoglierci in questo abbraccio. Allora la festa della Trinità è la festa della contemplazione di Dio. Dio, che è relazione d'amore, ha creato tutto a sua immagine. Ecco perché anche noi siamo fatti di relazioni, anche noi siamo felici quando le nostre relazioni, l'amare e l'essere amati, diventano concrete, diventano belle, diventano piene. Io quando è che sono felice, quando mi sento amato, ma anche quando sono capace di amare, quando sono importante per qualcuno e quando posso dare qualcosa a qualcuno, quando posso asciugare una lacrima, strappare un sorriso, ascoltare una sofferenza, essere vicino a qualcuno, lì davvero mi sento significativo. Perché siamo fatti a immagine di Dio, che è questa relazione d'amore. La Trinità non è un giochino matematico, tre in uno, ma è contemplazione di un amore grande, di un amore che si allarga a ciascuno di noi, di un amore più forte della morte. Grazie a tutti.